IATM è l'applicazione ufficiale dell'azienda di trasporti milanese. Questa applicazione infatti è disponibile sia per iPhone sia per iPad ed è totalmente gratuita. Che cosa fa? In primo luogo è possibile tramite l'applicazione guardare su una mappa quelli che possono essere i mezzi di superficie, metro o anche il sistema di bike sharing, bike mi milanese. Ovviamente quando aprite l'applicazione il sistema GPS del telefono vi geolocalizza all'interno di un punto quindi potete vedere quelle che sono le fermate e poi se per esempio in un punto trovate la fermata di quello che possono essere un paio di mezzi potete visualizzare il percorso e soprattutto in tempo reale anche se stanno arrivando e dentro quanto arriveranno quindi potrete fare i vostri calcoli. Se non siete contenti, quindi se vi manca ancora quel non so che per scaricarlo, questa sarà la chicca, la punta di diamante cioè all'interno dell'applicazione c'è un sistema di realtà aumentata. Voi puntate il vostro telefono con la videocamera aperta e dentro il telefono vedrete ovviamente le riprese del mondo circostante ma in più anche le indicazioni di dove si trova nello spazio quelle che sono le fermate dell'ATM. Che dire? Altro? Volete altro? Io sono a Milano Cadorna e quella dietro di me è una stazione di deposito delle biciclette del sistema di bike sharing milanese targato Bike.me. Tramite l'applicazione iATM io ho la possibilità di vedere sulla cartina quelle che sono le stazioni proprio come quella alle mie spalle vedere anche quante bici ci sono disponibili e quanti posti invece sono liberi in modo tale da non arrivare a una stazione e ritrovarmi per esempio senza nessune bici. Che cosa dire? iATM è un'applicazione a 360 gradi per muoversi nella grande città di Milano.